Oh mio dio, oh mio dio, ciao a tutti, oh mio dio, oh mio dio, già adoro, siamo Ricky e Teo and this is Allora è uscito il remix di lento della nostra Queen Lauren che io e Riccardo amiamo follemente le Fifth Harmony Siamo dei fan sfegatati veramente delle Fifth Harmony insieme alla nostra Queen Pablo Questo remix di lento sarà strepitoso, sono agitato, emozionato perché non vedo l'ora di ascoltarlo Infatti ora lo ascolteremo subito insieme a voi, oh mio dio, già adoro Se non siete ancora iscritti al nostro canale, subscribe, iscrivetevi E se volete seguirci su Instagram, Teo Yonse e Bored Richard e iniziamo con questa super reaction stra adoro, già Io ragazzi ancora non ci credo che sia succedendo davvero, Lauren e Pablo insieme, cioè Ok, fin qua è uguale cambia la base La voce di Lorena a me trasmette tantissimo, è unica Wow mi piace questo nuovo arrangiamento Amo questa base Oh mio dio, oh mio dio, sto aspettando Pablo Amo questa base così Ok, ci siamo, ci siamo Molto bella la base Brasilearito Pablo Adoro Oh no, lo dico io L'acuto Oh mio dio, adoro Appunto Tra l'altro le loro due voci insieme stanno benissimo Oh mio dio, oh mio dio A me viene un infarto Ho il cuore che ti sto perso Le onde Poi quella nostra amata Lauren No 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 Ciao, io me ne vado, ciao Oh mio dio Cioè, la voce di Lorena più gli acuti di Pablo Un pochino Un pochino ma lento Oh mio dio Ti prego Pablo, fai una collaborazione anche con Diana Jane, Normani e Ellie Brooke Per favore, per favore, per favore, cavolo, per favore Oh mio dio ragazzi, cosa abbiamo appena sentito Io stra-adoro, stra-adoro, non ci posso credere veramente Lauren e Pablo non ci posso credere, adoro Commentate adoro anche voi Oh mio dio Ragazzi allora io davvero, non so se voi lo sapete Ma a me Lauren piace tantissimo La seguo ovviamente insieme a tutte le altre ragazze da quando era nelle Fifth Harmony E è sempre quella che mi ha trasmesso di più Perché le ho sempre apprezzate tutte Ma lei ha sempre avuto qualcosa che per me è stato speciale Il fatto che ha fatto una canzone con Pablo Cioè, io davvero Mi sembra assurdo quando due artisti che così tanto apprezziamo Magari fanno una canzone insieme Cioè, sembra quasi surreale Poi a me lento piace tantissimo Mi trasmette davvero tanto La voce di Lauren più la voce di Pablo Insieme in una... Io... Grazie Davvero Davvero Dal cuore Grazie Fateci sapere cosa ne pensate assolutamente di questo remix Che è bellissimo Lasciate i like se vi è piaciuta la nostra reazione Subscribe Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al nostro canale E se volete seguirci su Instagram Teo Yonse e Bored Richard E ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti